Ma che dire amici miei, ci sono le persone le quali nascono arroganti ed impettite, basta che facciano una piccola cosa e poi sanno indorarla talmente da farla diventare chissà che cosa. Io credo nella mia vita di aver fatto molte cose, tra volte di aver fatto delle cose importanti, ma non me la sono mai tirata, non fa parte del mio carattere tirarmela e fare l'impettito e non lo farò d'ora in poi, ognuno ha il proprio carattere, ha il proprio stile di vita, quello che mi conforta e che forse le persone davvero grandi non se la tirano mai, sono i mediocri che se la tirano tanto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.